In questo video forniremo alcune indicazioni di base per l'importazione in ambiente CAD3D di dati metrico-spaziali preventivamente elaborati da software fotogrammetrico a partire da immagini fotografiche opportunamente eseguite di oggetti e contesti reali. L'argomento tocca il campo di studi molto vasto e specializzato della fotogrammetria terrestre-aerea al quale ci riferiremo limitatamente ad alcuni aspetti inerenti alla modellazione digital base per l'architettura oggetto del nostro programma. Per gli approfondimenti teorici e tecnici rinviamo fin da subito agli ambiti disciplinari della topografia e cartografia, del rilevamento e della geomatica e ai relativi insegnamenti offerti nei nostri corsi di studio. Veniamo quindi a noi. Tramite campagne fotografiche mirate o scansioni tridimensionali eseguite mediante dispositivi laser e il successivo utilizzo di software fotogrammetrico dedicato è possibile ricostruire un modello digitale 3D dell'oggetto o dell'invaso spaziale rilevato, sia esso un'architettura o un contesto più vasto. Il modello così ottenuto è misurabile, scalabile e georeferenziabile, dunque idoneo a essere elaborato in ambiente CAD 3D. Ma che cosa si intende per fotogrammetria? In termini generalissimi, la fotogrammetria è una metodologia di rilievo che permette di ricostruire i dati metrico-spaziali 3D, dunque stereometrici, relativi a forme e posizioni di oggetti e contesti tramite l'acquisizione e l'analisi di coppie, nella prassi serie, di fotogrammi, ovvero di fotografie opportunamente eseguite. La modalità di acquisizione degli scatti fotografici dipende anche dalla tipologia dell'oggetto che si vuole rilevare. È sempre necessario che le foto siano scattate in sequenza ordinata. Semplificando al massimo, nel caso di un oggetto convesso, occorrerà eseguire gli scatti dall'esterno, muovendosi intorno ad esso. Nel caso di un contesto concavo, ad esempio un interno architettonico urbano oppure un invaso naturale, la campagna di rilievo fotografico deve essere necessariamente eseguita dall'interno. Ovviamente i casi reali sono quasi sempre caratterizzati dalla coesistenza di elementi morfologici concavi e convessi. Per tale ragione la campagna fotografica va pianificata caso per caso in funzione delle specificità del contesto. Per consentire ai nostri studenti una prima rapida sperimentazione diretta, nei nostri corsi di studio sovente proponiamo loro di eseguire una campagna test su piccoli oggetti o in piccoli ambienti avvalendosi di uno smartphone per gli scatti fotografici. In ambito scientifico e professionale è invece necessario dotarsi di più sofisticati corredi strumentali e di adeguati dispositivi ottici che per il rilevamento di aree stesi o poco accessibili possono essere montati anche su drone. Tornando al nostro argomento, per fare in modo che il software fotogrammetrico riesca a interpretare e elaborare i dati spaziali, è molto importante garantire la parziale sovrapposizione di ogni scatto fotografico con quello precedente e quello successivo. È quindi necessario gestire correttamente la campagna fotografica che, come si diceva, va sempre pianificata in anticipo in base al contesto da rilevare, soprattutto in presenza di superfici o articolazioni spaziali complesse. Una volta acquisite le immagini, possiamo servirci di un software dedicato che ne permetta l'allineamento e la ricomposizione tridimensionale in ambiente digitale. I programmi di questo tipo utilizzano algoritmi che analizzano i singoli punti immagine di ciascuna fotografia, li riconoscono e li mettono in relazione spaziale con i corrispondenti punti immagine presenti nelle altre fotografie della serie. Nel nostro caso utilizzeremo Metashape, un software che attraverso vari passaggi, rielaborando i dati fotografici, è in grado di generare una riproduzione digitale tridimensionale dell'insieme dei punti immagine presenti nelle fotografie acquisite, la cosiddetta nuvola di punti e la corrispondente mesh poligonale. Vediamo meglio di cosa si tratta. Una nuvola di punti, detta anche point cloud, è pensabile come un montaggio fotografico tridimensionale, diciamo pure come una fotografia tridimensionale del contesto fotografato, la posizione dei cui punti immagine nello spazio digitale è identificata tramite un sistema di coordinate XYZ. Ogni punto immagine è inoltre caratterizzato da altri parametri, ad esempio i valori cromatici in bassa RGB, che indicano la qualità e l'affidabilità punto per punto delle aree rilevate, ma gli approfondimenti tecnici e teorici su questi aspetti esulano, come si diceva, dalle finalità del nostro percorso. La mesh poligonale è invece un reticolo geometrico tridimensionale più o meno fitto, composto di spigoli e facce, avente per vertici i punti della nuvola, che ne definiscono la topologia. Mesh significa letteralmente maglia o rete. Una volta elaborate tramite Metashape, dobbiamo esportare le nuvole di punti e le mesh. Per le nuvole di punti è consigliata l'esportazione in formato PLY, Polygon File Format. Per le mesh si possono utilizzare diverse estensioni, nel nostro caso ricorriamo al formato FBX, Film Box. Nella fase di esportazione è anche possibile generare, a partire dalle foto, le texture delle superfici rilevate, che verranno poi applicate alla mesh in ambiente 3D. A questo punto ci spostiamo in ambiente CAD 3D per importare i file così generati. Una volta in Rhinoceros, importiamo i file appena esportati utilizzando il comando Import dal menu File. Selezionando il file PLY passeremo alla finestra Import Options in cui è possibile impostare l'unità di misura. Selezionando il file FBX importeremo anche le relative texture. Cliccando sul tasto OK andiamo a inserire il modello nella scena. Sia la nuvola di punti che la mesh non hanno ancora una specifica scala, tuttavia le proporzioni reali sono mantenute fedelmente ed è già possibile visualizzarle ed editarle in ambiente 3D. Possiamo ad esempio utilizzare il clipping plane per simulare una sezione, oppure visualizzare le ombreggiature degli elementi. Insomma, prima ancora di procedere con più raffinate elaborazioni modellistiche, un clone tridimensionale dello spazio rilevato per via fotogrammetrica è già disponibile per le iniziali valutazioni di massima, sia analitiche sia progettuali. Occorre ricordare che le nuvole sono composte unicamente da punti, quindi su di esse non è possibile effettuare particolari operazioni di editing, ad esempio sezionarle, come invece si può fare con le mesh in quanto oggetti geometrici più strutturati. Le nuvole costituiscono tuttavia il database origine al quale è sempre utile riferirsi durante il lavoro. Nel prossimo video ci occuperemo della scalatura di questi database, del loro montaggio all'interno del modello di lavoro 3D e della loro georeferenziazione.